1 2 3 via vada ok siamo in piena produzione di kourou jones con delle patate violette che veramente hanno porto poco di viola ma buonissime chef piatto tipico allora piatto tipico della sardegna della zona ogliastra quindi una sardegna del sud diciamo ormai conosciuti dappertutto però normalmente si fanno con il pecorino e le patate invece li facciamo in versione vegan